Sara, storia di una bambina coraggiosa. Sara è una bambina diligente, ha i capelli rossi e ricci, è atletica ed ha una passione per i libri. Ha dieci anni e vive in Egitto, al Il Cairo, in un quartiere popolare. La sua famiglia è povera e deve pagare dei debiti, quindi la mamma decide di non mandarla più a scuola per farla lavorare. La mamma ha saputo da poco che nel quartiere una signora di nome Miriam gestisce un laboratorio di gioielli clandestino, situato nel sotterraneo di un altissimo palazzo. Così chiede alla vicina l'indirizzo di Miriam e l'indomani decide di portare Sara. Miriam è una donna senza cuore e spietata che utilizza le difficoltà economiche delle famiglie per un suo tornaconto. Infatti le dita sottili dei bambini sono molto adatte per creare bracciali con pietre incastonate. Le due donne si incontrano nel parco di fronte al palazzo e pattuiscono che Sara lascerà la scuola, andrà a lavorare nel laboratorio di gioielli e riceverà un buon salario per riscattare il debito della sua famiglia. Il 16 aprile nel 2002 inizia la nuova vita di Sara. Tutte le mattine alle 6.30 si alza e beve una ciotola di latte con pochi biscotti e poi comincia a lavorare fino a tarda sera in una stanza adiacente a dove dorme con altri piccoli bambini per guadagnare 10 sterline egiziane, una misera paga. Una mattina, mentre sta lavorando, le cade una pietra e chinandosi trova delle monete per terra. È molto contenta perché pensa subito che con quei soldi potrà comprare un libretto. La sera stessa decide così di scappare da una finestra succhiusa che porta sulla strada. Con un agile palzo si ritrova vicino all'edicola del quartiere dove finalmente può acquistare il libro. Dietro di lei una brutta sorpresa. Miriam, infatti, è alle sue spalle, la strattona, ma Sara velocemente nasconde il libro tra i suoi vestiti e cerca di scappare. Purtroppo non ci riesce e Miriam la conduce di fretta al laboratorio. Tutte le sere Sara legge il libro ai bambini più piccoli che si appassionano e le chiedono dove ha imparato a leggere. Sara gli racconta della scuola, del piacere di conoscere e scoprire e si confida dicendo che sente nostalgia nei suoi compagni di classe. Decide di insegnare a leggere ai bambini per rendere le giornate meno uguali. Una sera Sara ascolta una telefonata di Miriam e scopre che altri bambini stanno per arrivare. Stanca, prende coraggio e scappa per la seconda volta. Vuole fermare Miriam. Si dirige di corsa alla stazione di polizia dove denuncia Miriam. I polizzotti si recano al laboratorio dove la sorprendono con i bambini al lavoro. L'arrestano e fanno chiudere l'attività clandestina. Passano alcuni giorni. Sara è contenta di essere tornata a scuola e che i suoi genitori non hanno più debiti. Infatti, la polizia ha dato loro e alle altre famiglie i soldi della vendita dei gioielli. Ricordate questa storia e create il vostro futuro. Grazie. 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 Grazie.